Il Monteserra si è diventato un luogo del cuore. Così forte, così spaventosa a causa anche di eventi, ma anche la capacità di reazione che possono avere innanzitutto gli uomini, le donne, volontari che sono intervenuti per spengere l'incendio, senza che nessuno abbia portato ferite particolarmente gravi o addirittura che un incendio così pesante abbia perso la vita, come era possibile che potesse avvenire. E poi anche la reazione di tanti operai della forestale, di tanti tecnici che subito si sono messi al lavoro per l'assetto idrogeologico, per mettere in sicurezza questa parte bellissima del territorio toscano. Una parte del lavoro importante è già stata fatta, anche noi come regione vogliamo continuare e credo che il vostro contributo potrà dare un impulso decisivo a far sì che questa zona del nostro territorio possa ritornare, se vogliamo, ancora più bella, ancora più accogliente, ancora più capace di segnare l'identità della Toscana di quanto non lo fosse stata già in precedenza. Insieme possiamo farcela. Grazie per il vostro contributo, grazie per il messaggio di speranza che ci state mandando e che ci impegna ancora di più a lavorare con attenzione per la tutela del paesaggio della Toscana.